Una nuova piazza San Giustino, moderna e accogliente, senza perdere la sua storia perché i ritrovamenti avranno una collocazione fisica e anche divulgativa, oltre che narrativa, in modo che chi frequenterà la piazza conoscerà la sua storia e ciò che custodisce. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione Ferrara al via dei lavori di pavimentazione dopo lunghi mesi di chiusura per restituire al più presto possibile la piazza alla città. Sarà impiegato materiale di pregio per la pavimentazione. Architettura sostenibile e valorizzazione della storia caratterizzeranno la piazza, dove si trovano cattedrale, tribunale e che in futuro tornerà ad ospitare il municipio, nel Palazzo d'Achille. La pavimentazione sarà realizzata con pietre bianche di apricena, qualità made in Italy, mentre per l'illuminazione si punterà su luci a LED e a risparmio energetico. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno. L'area è ancora transennata e interdetta al pubblico. Vogliamo che il cantiere lasci al più presto il posto a un luogo capace di diventare un riferimento nuovo per la città e per chi viene a conoscerla, afferma l'assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli. La riconsegna di piazza San Giustino farà da acceleratore dei progressi di rigenerazione della città che sono già in corso e si intensificheranno anche con l'approvazione del bilancio.